Un cordiale benvenuti dalla redazione giornalistica di Calabria Reportage. Grotteria. Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri a grotteria per violenza sessuale su minori di 10 anni. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Locri, su richiesta della procura. I fatti risalgono ad agosto. L'uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe avvicinato una bambina extracomunitaria di 7 anni. Approfittando della lontarenza della madre, l'avrebbe baciata e palpeggiata. Cosenza. I carabinieri hanno arrestato a Malvito e fratelli Antonio e Mirko Liveto, di 23 e 21 anni, e Cosimo 10 anni, 20 anni, con l'accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti. I tre sono stati sorpresi dai militari in flagranza di reato, mentre erano intenti ad irrigare una piantagione di canapa indiana realizzata sul terreno di Maniale. A Tanzaro, Vittorio Sgarbi in una nota si dice pronto a rinunciare e chiedere in prestito i bronzi di Riace per l'Expo 2015. E questo aggiunge per il punto a cui sono le polemiche e in attesa del giudizio della commissione tecnica voluta dal ministro Franceschini. In questi mesi si è parlato più dei bronzi di Riace che di Cantone. E per la prima volta della Calabria, non per l'Andrangheta, ma per i bronzi. Mi pare un buon servizio per Milano, per i calabresi e per l'Expo. Reggio Calabria. Aveva nascosto in vari ambienti della propria abitazione più di 50 grammi di marijuana. Un diciottenne di IP con precedenti penali è stato arrestato e posto domiciliari dai carabinieri a Reggio Calabria, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Catanzaro. Si è insediato stamattina a Catanzaro il nuovo direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, Diego Bouchet, che proviene dalla Campania, dove negli ultimi tre anni ha ricoperto lo stesso incarico. Spero, ha detto Bouchet nel suo indirizzo di saluto, di poter dare una buona prova e spero altresì di poter spendere proficuamente le mie energie e le mie competenze al servizio della Calabria. Questa era l'ultima notizia curata da Calabria Reportage. L'informazione torna più tardi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.